Ciao ragazzi, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Dalla iodimetria oggi passiamo alla bromatometria e l'esercizio di oggi che è stato anche esposto durante l'esercitazione è il seguente. L'antimonio presente in un campione può essere determinato con una titolazione usando un opportuno agente ossidante. Un campione avente massa pari a 1,62 grammi contenente antimonio viene disciolto a caldo in acido coloritico concentrato e trattato con un agente riducente che trasforma tutto l'antimonio presente in antimonio 3+, quindi questa prima parte serve solo per liberare il catione dell'antimonio 3+, dal suo sale. Quest'ultimo, ovvero l'antimonio 3+, viene titolato con una soluzione di bromato di potassio in ambiente acido. Calcolare la quantità di antimonio presente nel campione e la sua percentuale di purezza, sapendo che i bromuri sviluppati in seguito all'ossidazione dell'antimonio 3+, ad antimonio 5+, vengono addizionati di una soluzione di iodio molecolare titolato a sua volta con 15 ml di diosolfato di sodio a 0,125 molari. Il peso atomico dell'antimonio è uguale a 121,760 grammi su moli. Allora ragazzoli, come prima cosa ci conviene sempre scrivere tutte le reazioni coinvolte e successivamente passare ai calcoli. Leggendo la traccia ci possiamo rendere conto che il problema avverte sulla bromatometria. La bromatometria è una tecnica analitica che utilizza il bromato come titolante nelle titolazioni redox. In base all'uso che se ne fa del bromato, la bromatometria può essere suddivisa in due rami. La bromatometria diretta e la bromatometria indiretta, o anche chiamata più generalmente bromatometria con generazione in sito di bromo. Nella bromatometria diretta il bromato viene fatto reagire direttamente con l'analita in ambiente acido, il quale comportandosi da specie ossidante ossiderà l'analita riducendosi a bromuro. Nella bromatometria indiretta, o anche chiamata bromatometria con generazione in sito di bromo, abbiamo che il bromato viene fatto prima reagire con il bromuro e successivamente il bromo molecolare formatosi in situ va a reagire con l'analita. Quindi abbiamo che il bromato reagisce col bromuro per formare il bromo molecolare e il bromo molecolare andrà a reagire con l'analita. Quindi in questo caso l'analita viene, diciamo, titolato indirettamente. Quindi non è il bromato a reagire direttamente con l'analita, ma sarà il bromo, che è stato generato dal bromato e il bromuro, che andrà a reagire direttamente con l'analita. E quindi in questo caso la vera specie ossidante non è il bromato, ma sarà il bromo molecolare. Analizzando tutto ciò che vi ho appena esposto, potete rendervi conto che noi ci troviamo nel primo caso, ovvero nel caso in cui il bromato reagirà direttamente con l'analita. Infatti l'antimonio 3+, come ci viene specificato dalla traccia, verrà ossidato ad antimonio 5+, proprio dal bromato, portando così alla formazione dell'oione bromuro. Quindi ora scriviamo questa prima reazione. L'antimonio 3+, reagendo con il bromato in ambiente acido, porterà alla formazione dell'antimonio 5+, dell'acqua e dell'oione bromuro. E le due similiazioni che compongono tale reazione redox sono le seguenti. L'antimonio che si sarà ossidato perdendo due elettroni e passando da più 3 a più 5, mentre il bromato si sarà ridotto acquistando sei elettroni e passando da più 5 a più 1. Successivamente la traccia ci dice che i bromuri sviluppati vengono addizionati di una soluzione di iode molecolare. Quindi la reazione che si instaurerà sarà la seguente. L'oione bromuro si ossiderà a bromo molecolare facendo ridurre lo iode molecolare in ione ioduro. E le due semireazioni che compongono tale reazione redox sono le seguenti. Ragazzoli però, prima di procedere ho bisogno di fare un piccolo appunto teorico e una dovuta precisazione. Dalla teoria si sa che per poter stabilire velocemente se una reazione redox avviene oppure no spontaneamente, bisogna sommare i potenziali standard di riduzione delle due semireazioni ed analizzarne successivamente il risultato. Se questo è maggiore di 0, allora la reazione procederà spontaneamente. Mentre se questo risultato sarà minore di 0, allora la reazione non procederà spontaneamente, ma ci sarà bisogno di lavoro esterno per farla avvenire. I potenziali standard di riduzione e le corrispettive semireazioni di riduzione che a noi interessano e che potete trovare tranquillamente su una tavola periodica come questa, sono i seguenti. Ora che li sappiamo ricolleghiamoci al nostro caso. Come detto, la reazione totale che avviene è la seguente, ovvero l'ione bromuro reagisce con lo iodio molecolare per formare il bromo molecolare più l'ione ioduro. E le due semireazioni che compongono tale reazione redox sono le seguenti. Analizzando le due semireazioni, quindi, si può notare che il bromuro si ossida in bromo molecolare, mentre lo iodio molecolare si riduce in ioduro. Quindi il potenziale standard della seconda semireazione, cioè iodio molecolare che si riduce in ioduro, resta così com'è, perché quel potenziale standard, ovvero di 0,535, si riferisce a quella specifica semireazione di riduzione. Invece, come potete notare, il potenziale standard della prima semireazione, cioè quello in cui il bromuro si ossida a bromo molecolare, varia nel suo opposto, cioè passa da 1,087 a meno 1,087. Questo perché il potenziale con il valore di 1,087 si riferisce alla semireazione di riduzione, ma nel nostro caso la semireazione avviene in senso contrario a quella a cui si riferisce il potenziale standard. Quindi, per la semireazione non di riduzione, ma di ossidazione, ovvero quella in cui il bromuro si ossida in bromo molecolare, bisogna considerare il valore negativo del potenziale standard. Quindi non sarà più di 1,087, ma sarà di meno 1,087. A questo punto, conoscendo i due potenziali, andando a sommarli, ci rendiamo conto che il risultato finale è minore di 0. E ciò vuol dire che la reazione che noi stiamo considerando, ovvero quella tra ione bromuro e iodio molecolare, non è spontanea. Dunque, a causa di ciò, teoricamente, l'esercizio dovrebbe fermarsi qui. Ho portato in esame questo problema alla dottoressa, l'assistente del mio docente, e mi ha detto che effettivamente c'è un errore nella traccia, però mi ha consigliato di procedere comunque con lo svolgimento dell'esercizio, nonostante ci sia questa incongruenza. Perché alla fine ciò che conta è proprio lo svolgimento del problema. Ragazzoli, scusatemi se mi sono soffermato a dirvi questa cosa, ma l'ho fatto sia per una questione di precisione e completezza, ma anche per dirvi che c'è la probabilità di imbattersi in errori di traccia. Quindi, per individuarli facilmente, imparate bene la teoria e state sempre vigili quando leggete la traccia e svolgete i problemi. Ma soprattutto, se avete dei dubbi o delle incertizie, chiedete sempre al docente o agli assistenti proprio come ho fatto io per questo problema. Comunque, fatta questa piccola precisazione, continuiamo a scrivere le reazioni coinvolte, tenendo conto di ciò che ho appena detto. Dopo che il bromuro e lo iodio molecolare hanno reagito, la traccia infine ci dice che lo iodio molecolare impiegato è stato titolato a sua volta con il Tio-solfato. La reazione che si instaurerà sarà la seguente e le due simili reazioni che compongono tale reazione redox sono le seguenti. Queste sono tutte le reazioni coinvolte che prevede la traccia. Adesso possiamo passare ai calcoli. Dalla traccia conosciamo la concentrazione ed il volume di Tio-solfato di sodio. Quindi, per prima cosa, ci andiamo a calcolare il numero di moli di Tio-solfato di sodio impiegati nella titolazione dello iodio molecolare. Il numero di moli del Tio-solfato di sodio saranno uguali alla sua concentrazione per il volume, uguale a 0,125 per 15 per 10 alla meno 3, uguale a 1,875 per 10 alla meno 3 moli. A questo punto, dato che le moli di Tio-solfato sono in rapporto 2 a 1 con lo iodio molecolare, avremo che le moli di iodio molecolare saranno ricavate mediante la seguente proporzione. 2 moli di iodio-solfato saranno a 1 mole di iodio molecolare, come 1,875 per 10 alla meno 3 moli di iodio-solfato saranno ad x moli di iodio molecolare. x sarà uguale a 1,875 per 10 alla meno 3 per 1 diviso 2, uguale a 9,375 per 10 alla meno 4 moli. Ora, dalla reazione scritta in precedenza, sappiamo che il bromuro e lo iodio molecolare reagiscono in rapporto 2 a 1, quindi le moli di bromuro saranno calcolate mediante la seguente proporzione. 2 moli di ione bromuro staranno a 1 mole di iodio molecolare, come x moli di ione bromuro staranno a 9,375 per 10 alla meno 4 moli di iodio molecolare. x è uguale a 9,375 per 10 alla meno 4 per 2 diviso 1, uguale a 1,875 per 10 alla meno 4 moli di ione bromuro. Adesso però, sapendo che i bromuri sono stati sviluppati dalla reazione tra l'antimonio e il bromato, possiamo ricavarci le moli di antimonio dalla seguente proporzione. Una mole di bromuro starà a 3 moli di antimonio 3+, come 1,875 per 10 alla meno 4 moli di ione bromuro staranno ad x moli di antimonio 3+. x sarà uguale a 1,875 per 10 alla meno 4 per 3 diviso 1, uguale a 5,625 per 10 alla meno 3 moli di antimonio 3+. Ed infine, conoscendo il peso atomico dell'antimonio, ci andiamo a calcolare da primi grammi presenti nel campione e successivamente in che percentuale è presente l'antimonio 3+. I grammi di antimonio presenti nel campione saranno uguali al numero di moni di antimonio 3+, per il peso atomico dell'antimonio, uguale a 5,625 per 10 alla meno 3 per 121,76, uguale a 0,6849 grammi. La percentuale peso-pese di antimonio sarà uguale ai grammi di antimonio diviso i grammi del campione per 100, uguale a 0,6849 grammi diviso 1,62 grammi per 100, uguale a 42,28 per 100. E questi sono i risultati finali richiesti dal problema. Ebbene ragazzoli, anche il video di oggi si conclude qui. Noi ci vediamo settimana prossima con l'ultimo video di questa serie, fatemi sapere come sempre nei commenti se vi trovate con il procedimento e con i calcoli, e se trovate utili questi video vi ricordo di mettere il mi piace, di iscrivervi al canale e attivare la campagna in linea qualora non l'aveste già fatto. Al prossimo video, buono studio!